Buongiorno amici, continuo il vlog, oggi stiamo andando praticamente a Forlì, ci stiamo facendo una passeggiata a piedi costanto subito vi voglio far vedere un po' Forlì, questo sarà penso il Duomo, è domenica quindi non c'è quasi nessuno però per farci una passeggiatina, prima di andare dal giapponese, ho un po' paura sinceramente di andare dal giapponese però vabbè, vi faccio vedere un attimo la piazza di Forlì, Cesena, dove abita mia zia, perché io c'ho una zia, c'ho una zia che sta a Forlì giusto? Vabbè basta, sono idiota, comunque non mi chiedete che cosa sono queste cose perché non lo so ma pur noi, santo subito, prima di andarci a fare un giro turistico da qualche parte ma ti vuoi almeno informare di che cosa stai facendo a vedere? No, noi facciamo tutto così, alla random e vabbè, comunque questa è la piazzetta io penso che questo qua sia il Duomo, io penso ma non c'è scritto che bello, c'è il chieschetto c'è anche il pozzo dei desideri, amore mi vado a gettare? mi vado a gettare? se dietro rindo faccio cioè non so se voi, io mi auguro che voi non abbiate sentito che cosa ha detto e ha detto se mi butta dentro gli si realizzano i desideri ma boh, ma perché, aiuto basta, lasciate stare i fidanzati, non vi fidanzate no, comunque non era un pozzo, giusto per fartelo sapere è una specie di che? non l'ho capito, comunque ci sta il praticello dentro ok, una cosa, giusto perché sta scritta, ve la posso dire sicuramente quello è il municipio e qua non mi posso palazzo dei telegrafi delle poste è una posta antica forse vabbè, ma noi da grandi scroccatori ci accoderemo a loro e mi faccio pure il viaggio turistico gratis cioè non dobbiamo fare, no, non mi sembra il ca comunque pensieri e azione ho premesso che? tutta una pensieri azione chi è questo signore? vittorio signore? si dice, è una persona anziana chi è questa persona anziana? che riflette tra l'altro pensieri e azione Aurelio Saffi mi manca il popolo forlevese ragazzi, praticamente abbiamo, ho visto Aurelio Saffi è un grande politico del risorgimento famoso per essere del partito politico di Mazzini cioè, sì, vabbò lo so che a voi non me ne frega una cespa ma io sono andata a googlarlo per voi rendetevi conto ah, rettifico, questo è il Duomo giustamente, rettifico ok e quella che cos'è? cassa? artigiana rurale e artigiana ok e niente, questo è praticamente la piazza principale di Forlì guarda allora questa qua è la cassa dei risparmi per no, ok non è quello dell'agricoltura praticamente è un altro questo e guardate che bei hanno risparmiato molto adesso stanno subito perché hanno risparmiato per fare questi cancelli cioè che costeranno lire di Dio cioè guardate cioè guardate quanto è fatto bene guardate sopra cioè è stupenda bellissimo santo subito dove vai? non mi abbandonare siamo andati di granite perché quasi guardate le mie unghiette le mie unghiette oddio quanto sono belle lasciamo stare no, le ho fatte io da sola e non è gel purtroppo e niente adesso penso che ci andiamo a fare un'altra volta il diretto al centro commerciale e poi se riesco vi faccio vedere quando andiamo a mangiare i sushi e adesso mi finisco la granita perché praticamente siamo venuti da zia un fine settimana e abbiamo acchiappato un fine no, vi devo fare questa cosa è bellissima le couper abbiamo acchiappato un fine settimana di fuoco vi giuro si muore si muore proprio ma quanto ci saranno? più o meno ieri siamo siamo arrivati sui 40 gradi quasi adesso sono le dieci e mezza e penso ci saranno già 30 gradi c'è una cosa assoluta vabbè io continuo fa vedere ste cover perché sono stupende cioè guarda quello amore il coniglietto il coniglietto col popò di troppo bello ma sono stupende iphone 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 oddio i pinguini che belle queste sono introvabili ah vedi quello amore quello là serve questo cosino qua tipo farfallina serve per vedere i video cioè lo attacchi dietro e poi si appoggia capito che belle amici allora vittoria è provveduto a prendere i primi e io ho provveduto a prendere l'antipasto allora vediamo un pochino mamma mia che bontà questo gamberetti gamberetti alghe dove stanno le alghe ah le alghe che sfizio buon appetito va preso il riso alla cantonese i gamberetti e poi che sono gamberetti cotti che so questo metti i miei pure a me no allora faccio un pochino beh al cocco questi sono al cocco te ne faccio uno di tutta ma a te si grazie patatini no patatini non manco io ah vabbè due due cioè praticamente qua ragazzi è tutto fede a te amore gli spaghetti di soia me li metti due e amore adesso me li vengo a prendere loro va bene? ma pochi 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 eh sì pochi alza 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 vabbè 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 guardi la misura sì sì me lo fa a lei qua in pratica ragazzi prendete il pesce crudo e ve lo cucinano al momento cioè guardate no ragazzi è una cosa spettacolare mamma mia siamo in quattro persone no siamo in cinque persone comunque giusto per rettificare perché sennò sembra un maialetto cosa sono quelle? roba leggera roba leggera sono venuti al dolce mo devo capicare sta palla no come è buono sto limone lo porti frutta l'ora lo puoi mangiare con le mani? no madonna ma come c'è dei figuerini le macchine mamma mia è buona ciao tarta e questo è ruga con rugino quanto sono belle piccole zia pure a Salerno stanno così e hanno fatto una cosa al centro con tutte le tarte rughe ciao paperella corri 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 le paperelle col becco rosso e questa con la testa verde ma non è bella si è andata al sushi anche tu? si ti vedo leggermente appesantito ti vedo un poco appesantito piccolo cigno sei bellissimo piccolo cigno no ma è meraviglioso mamma ma che gallina è quella? spiegatemi appunto non ho capito che animale è scusami che gallina è quella? ciao questo è bellissimo è una specie di mangiare certo quella cosa mi hai fatto la foto? mangiare vedi? guarda 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 ce la fa? vai che ce la fai vai che io credo in te vai no ci ha rinunciato si si è stancato oddio che belli ciao ciao questo è il color tiffany amore guarda quanto è bello questo è il color tiffany questo guarda guarda che è fico ciao bellissime ciao 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 ciao